Buongiorno bella gente, come state? Allora, premetto subito, mi dispiace di non aver letto tutti i vostri commenti, li sto leggendo un pochino a volte, li sto ricoprendo un pochino alla volta, perché comunque, non stando bene, non ho neanche la testa per mettermi a leggere tutti quanti, magari anche rispondo o cose del genere, non ci riesco proprio, non riuscirei a godermi, non riuscirei a cogliere il simbolo, il significato di quello che scrivete, le cose belle, che mi scrivete e così via dicendo, però un po' alla volta li recupero, promesso. Non porto video qualche giorno proprio perché sto malissimo, domani arriva la terapia del dolore e vediamo di stare meglio e di conseguenza di riportare qualche video, vediamo un po'. Comunque ringrazio tutti i nuovi iscritti, anche per qualche commento di questi che ho letto che sono bellissimi, grazie veramente a tutti. Uff, raga, è veramente duro, mal di schiena, nausea, vomito, non dormo, è veramente un periodo difficilissimo, ma passerà, dai, domani terapia del dolore. Ciao.